Cari ragazzi e mi ritrovo di nuovo a parlare dell'autobiografia di Chiellini che a questo punto pare aver fatto dei danni enormi almeno sotto il punto di vista delle polemiche perché prima Balotelli poi Melo poi Vidal adesso si discute il fallo di Sergio Ramos commesso su Salah nella finale di Champions del 2018 di due anni fa e sono deluso e sono deluso perché il capitano della Juventus non può elogiare l'astuzia che commise Ramos perché quella non è un'astuzia quella è una bastardata ecco è una bastardata quella commesso da Ramos e il capitano della Juventus non può che sia in un'autobiografia o che sia in un bar non può elogiare il capitano della Juventus un gesto del genere non può elogiarlo anzi anzi lo va ad idolatrare non va bene non va bene adesso ci arriviamo non mi piace perché ripeto qua non parliamo neanche dell'ultimo tifoso e ste robe non le accetto neanche dall'ultimo tifoso figuriamoci dal capitano della Juventus capitano della Juventus che anche se le pensa quelle cose non deve non deve dirle perché capitano della Juventus ecco 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 ma avvolgiamo il nastro perché qua sarà facile adesso attaccarmi perché sono 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 interiste direte interiste ovvio si attacca su no 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 con me sto giochino non va bene fatelo con chi vi pare ma con me sto giochino no non va bene non va bene perché ricordate la moviola di Neschio del giorno dopo di Inter Atalanta 1 a 1 non la ricordate perché è giusto è giusto che sia così io non ricordo nemmeno cosa ho mangiato oggi a pranzo figuriamoci se voi vi potete ricordare una roba del genere andate andate scrivete Inter Atalanta 1 a 1 anzi scrivete Lautaro Martinez Nespio il primo video che vi esce è quello là perché in Inter Atalanta 1 a 1 Lautaro Martinez va con questo gesto già ricordate qualcosa già ricordate qualcosa va ad ingapiare Toloi che cavolo era Toloi se non sbaglio e commise un gesto che per me era antisportivo poi si discusse sul fatto rigore non rigore questo non quell'altro commise qualcosa di antisportivo e io lo dissi punto perché ti puoi chiamare Lautaro Martinez e tu puoi chiamare Martirez Lautaro ti puoi chiamare che cazzo ne so fate fate un po' voi e lo dissi fui attaccato dagli interisti e ma tu dici questo quell'altro solo perché vuoi no no io dico questo perché i gesti che sono antisportivi che sono malsani per il calcio per me sono da condannare sono da condannare e uno dei gesti più brutti della storia del calcio fu proprio quello che commise Ramos su Salah punto basta basta e lo sappiamo tutti che lo fece apposta Chiellini lo conferma nella sua autobiografia ma invece di condannarlo lo elogia e sta roba per me non è buona sta roba non fa bene sta roba non è buona ma vi chiedete un po' cosa ne pensa Salah io me lo chiedo Salah giocatore grandioso che si trova a giocare una finale si trova a giocare una finale e quella finale non può giocarla perché gliela stroncano non può giocarla ma ci pensate o no ma ci pensate e attenzione Salah rischiò anche il mondiale Salah rischiò anche il mondiale gli andò bene rischio anche il mondiale sapete che danno poteva arrecare quel giocatore ma lo sapete o no lo sapete o no non sono deluso sono arrabbiato a sto punto non sono sono arrabbiato come si fa a elogiare una roba del genere ma andiamola a prendere sta frase andiamola a prendere andiamola a prendere non l'ho messa neanche aspetta che ve la metto perché sennò dice qua è il neschio che si inventa se inventa le robe se inventa neschio le robe no non sono io che me ne invento le robe non sono io che me ne invento le robe no no ecco ecco è il miglior difensore del mondo se come sa come essere decisivo nelle partite importanti con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica quello su Salah fu un colpo da maestro ma come fai a definire quello su Salah un colpo da maestro ma come si fa ma come si fa lui il maestro Sergio ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa sai che 9 volte su 10 rischi di rompere il braccio al tuo avversario poi l'elogio continua posso dire sia impulsivo che abbia poco senso tattico che sia colpevole 8-10 gol subiti ogni stagione ma lui ha due caratteristiche che non sono oltre a in comune scusate mi sto alterando scusatemi dovrei rimanere pacato con i nervi saldi ma non ce la faccio per il semplice motivo che sta roba per me inquina inquina sta roba qua inquina ma ancora una volta mi ritrovo a dire che questo è il capitano della juventus questo è il capitano della juventus e lui non le deve dire ste robe qua non le può dire ste robe là e fa capire chiaramente che questo elogio è soprattutto per la sua qualità lui la chiama qualità diabolica di sapere capito di sapere anche far quando c'è bisogno di fare infortunale anche i giocatori chiave che roba è questa ma che roba è ma dove siamo ma cosa stiamo leggendo cosa stiamo dicendo ma cosa ma cosa ecco e sono qui ti puoi chiamare l'autaro martinez e ti puoi chiamare giorgio achillini non si possono elogiare i gesti antisportivi perché i gesti antisportivi sono malsani per il calcio sono malsani e il capitano della juventus deve esimersi da ste robe qua anche qualora lo pensasse davvero e lui lo pensa non deve dirle ste robe qua perché sei il capitano della juventus e non devi dirle ste robe qua passa l'atteggiamento avuto su balotelli passa su melo passa su vidal perché è una verità magari talmente ovvia che poi l'ipocrita di turno sta lì a fare il moralista e ma ma quando poi siamo tutti consapevoli di del fatto che magari ci sia una verità di fondo ma anche in quel caso tienitene per te anche in quel caso e l'ho detto ci sono tanti modi per dire alcune cose alcune cose ci sono tanti modi sbaglio forse non sbaglio ecco ma è passa passa però qua ragazzi cioè un gesto veramente che è costato la finale ad un giocatore incredibile come sarà gli è costato la finale tu chiellini sai che lui l'ha fatto apposta lo elogi boh poteva costargli anche il mondiale e tu lo elogi io la ste robe ripeto ste cose non non le tolgo non le accetto quando quando sento parlare di ste cose boh rimango proprio vabbè è pazzesco è una roba una roba incredibile una roba incredibile nessuno discute il fatto che ramos non sia forte nessuno lo discute il giocatore è fortissimo ma se parliamo di 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 sportività allora allora dobbiamo fare discorsi un po un po diversi e non possiamo elogiare ciò che non è sportivo bisogna invece discriminarlo in realtà ma quanto pare questa cosa questa cosa non è per chiellini fatemi sapere cose che pensate voi commentate e niente un grande abbraccio a neschio